Un romanzo, la storia di una scrittrice che però si trasforma anche nell'occasione per parlare di tematiche che continuano a riempire le pagine di cronaca, quelle femminili riguardanti la maternità e la sua negazione in tutte le sue sfaccettature. La ballata delle figlie è il nuovo romanzo di Sala Lorenzini, autrice televisiva romana ma di origini molisane. Il libro è stato presentato a Campobasso con un incontro alla libreria Risguardi moderato dalla giornalista Sabrina Varriano, la protagonista è Teresa. Teresa è una giovane donna alla ricerca delle sue origini, è una figlia di NN ovvero figlia di una donna che ha deciso di lasciarla in ospedale, di lasciarla, darla in adozione preferendo restare anonima. Per cui Teresa nasce dentro questo mistero, non sa chi è la sua mamma biologica, soprattutto per lei è una questione di identità, lei vuole scoprire qualcosa di sé e non tanto scoprire chi è la madre biologica perché lei è una mamma, ce l'ha ed è Carla. E poi insomma la storia è appunto quella di Teresa che con Alessandro, un giovane avvocato, crescerà cercando in qualche modo di arrivare a una verità. Centrale nel libro è il tema delle adozioni. In molti in Italia da anni portano avanti una battaglia per riconoscere il diritto dei figli nati da parto anonimo affinché possano conoscere l'identità della propria madre biologica, previo interpello e consenso di quest'ultima nel totale rispetto della sua privacy. La storia di Teresa è una storia di finzione, è la storia di un NN. In Italia ce ne sono moltissimi e molti fanno capo a questo comitato che si batte da anni per cambiare una legge che in Italia impedisce ai figli di NN di risalire alle loro origini. Una parte del romanzo di Sara Lorenzini è ambientata in Molise, a Trivento. Teresa arriverà per vie misteriose a Trivento, proprio perché la legge le impedisce di seguire le vie ufficiali, lei seguirà vie ufficiose. E arriva lì perché arriva lì, lì ci sta una parte di me, insomma un po' autobiografica, i miei nonni erano di Trivento, io sono molto legata a quel posto e quindi ho scelto di intrecciare il destino di Teresa un po' col mio.